bella tutti i free readers bentornati a questo appuntamento con spliff break oggi siamo a raccontare un po quello che sta accadendo insomma un po su internet perché siamo un po fermi con i raduni sul territorio ma abbiamo deciso di lanciare delle campagne online per cercare di fare delle pressioni certo per quanto si può fare chiaramente poi svilupperemo anche sul territorio magari durante il mese di agosto durante le campagne elettorali un po più serrate dei vari partiti ma per adesso sui social network mentre i vari partiti stanno accordando anche sui programmi elettorali e sulle varie alleanze e spingono con vari post anche molto spesso ecco allora che cerchiamo di diffondere informazioni su quello che chiediamo sul manifesto collettivo su questa proposta completa andando a interagire con i profili sui social network dei vari politici dei rappresentanti di capi di partito dei vari gruppi di partito eccetera eccetera ecco questo crea interazione crea confronto si riesce anche a interagire con persone che magari non sempre seguono questa situazione magari non sono ancora conoscenza di questa nostra richiesta importante ecco allora che è importante unificarla per fare una pressione congiunta in attesa delle organizzazioni di eventi importanti che stiamo cercando di fare verso settembre ma non è facile ve lo dico subito perché chiaramente mancano fondi mancano anche volontà azione sul territorio serve coordinazione altre realtà si stanno coordinando per altre situazioni vedremo un po' i risultati di queste cose noi cerchiamo di proseguire dritti verso un evento magari che spinga verso la richiesta del manifesto collettivo o di comunque una nuova legge completa su questa linea ma non è facile cerchiamo di coordinarci pertanto su quello che riusciamo a fare già oggi sui social network che comunque seppur poco è una pressione importante che porta alla ribalta e alla luce una richiesta importante anche perché poi ritrovarsi è difficile mentre sui social è più semplice convergere come pressione e allora rilancio questo appello andiamo in giro con l'hashtag manifesto collettivo spingiamo sotto i profili dei partiti mandiamo in giro le diapositive che sono e trovate anche qua su twitter e su youtube qua sotto quindi diffondiamo ovunque informazione verso la nostra pressione sociale vogliamo l'inserimento nell'agenda del governo successivo a quello di adesso di missionario che si inserirà col nuovo parlamento con le elezioni del 25 settembre che inserisca nella sua agenda appunto la regolamentazione totale e completa ovviamente non sarà facile però bisogna sicuramente provarci se non ci prova non si riuscirà sicuramente bella a tutti i free readers fatemi sapere cosa ne pensate che è importante sempre confrontarsi vi leggo sempre nei commenti bella a tutti i free readers fino a libertà